Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un veicolo in fiamme ci sono un chilometro di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e un altro chilometro di coda sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In FIPILI code in uscita all'Astra Signa provenendo da Firenze, uscita chiusa per incidente a Firenze Scandicci provenendo da Firenze, rallentamenti per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sulla statale Trebbi Stiberina tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord. Per questi lavori è attivo uno scambio di carreggiata tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!